Pronto Metto antiaerei e traccianti 30 minuti Dai dai, parti, parti Partiamo Qua è pieno di Sea Fury praticamente O Sea Fury come si dice Comunque sto registrando Allora Buongiorno, tutti vanno su Buongiorno, stiamo registrando Perciò ci dico stiamo registrando Si prendono di timidezza e fuggono Tra tranne Magic Lui voleva partecipare Esatto Ecco Che è successo Ha messo la stanza delle registrazioni Ah ok, post post Non sapevo che c'era la stanza Era creata, creata ora No, c'era prima Comunque possiamo climbare tranquillamente Sì, ecco Climbiamo verso L'ultima base Loro Ok A 25 gradi Ok Grazie, grazie davvero Quando Vabbè La velocità Tipo cala In maniera esorbitante Beh, climbiamo tipo a scaletta pure Perché comunque Adesso arriviamo a 4.000 Poi mettiamo 20 Tanto Arrivare a 4.000 post aereo Cioè E' facile Ci metti nulla Io ho paura dei Dora Che staranno a 7.000 Ah In sta mappa Gli F8 C'hanno già lo spawn aereo A 4.000 Tipo 90 F8 Io tipo Sto registrando Ma sto registrando A 50 20 FPS Ottimo Devo cambiare la scheda grafica Ma cosa c'hai? Cosa l'hercia? Una di 6.600 E qua Mi becco gli sputi 1.600? Sì Beh, io ho una Perché la scheda video che avevo Si è bruciata E quindi questa è Diciamo Di rimpiazzo d'emergenza Che cosa avevi? Avevo l'anvidia GeForce GTX 8.000 E 6 Ecco lì Io avevo Cioè no Ho Tipo AT4.350 Però tipo Adesso sto facendo Ho tante FPS No ma io sto anche Registrando Quindi Vabbè 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 Comunque Ultra low quality OP E' quello sempre E cosa potresti prenderti? Schede a video? Eh Schede a video che tutto sommato Ma non so Qualunque scheda video Sicuramente è meglio di quella che ho adesso No comunque Dipende poi quello che vedo lì Quando ci vado Vabbè Se ti dico la marca Tu su cosa sempre penso? Vidia Sempre in Vidia Ecco E sulla fascia di prezzo? Ma posso arrivare anche a 150 100 Non di più Ti prendi Tranquillo Una 750 ti hai Cosa che deve stare dappertutto Comunque Il più è che tutti I giochi più o meno Sono ottimizzati in Vidia Eh sì E' la migliore Anche se con MD spendi di meno E questo è anche da prendere in considerazione Però Comunque Stiamo trasformando un video di War Thunder In un video Di scelta di schede video Eh oh Siamo in Climb Non scelde nessuno Adesso io vedo un puntino Verso est Due anzi Sì sì Uno più alto di noi Due dot Si chiamano dot Cominciamo a usare I giusti termini Potrebbero anche essere Dei puntini Cosi sul mio schermo Tercio Questo è vero Comunque BF 109 Messerschmitt 410 Fockewolf Uno Non scendere Perché io sono più propenso Di ingaggiare Il 109 109 è più alto Che mi dà fastidio Sì sì Sono d'accordo Però attenzione Anche a quel Fockewolf Kniass Siamo da soli Siamo da soli Qui Siamo da soli Siamo dei griffon Io opterei per tornare via Va bene Sei tu il cavo Andiamo No perché Voglio vedere Cosa facciamo da soli Torniamo E moriamo Stiamo verso gli alleati Perché non sei più mio alleato Ah vero Perché hanno messo il fatto che Gli alleati Sono Quelli Nelle vicinanze Allora Quanto c'è lì Hai te? Di cosa? Distanza Distanza? Eh il 410 Un chilometro Tutti gli altri Sono oltre Il chilometro Ah vabbè Tanto il 410 Non ti prende Ma il Dora sì Però Il Dora sì Dimmi quando diventa Veramente vicino Tipo adesso Tipo adesso quanto ce l'hai? 1,40 Sta avvicinando rapidamente Vero? No no Il griffon comunque lo tiene Vabbè Perché lui Cioè siamo partiti noi Da una virata Lui Non ha virata Merda se vira Schifosamente Sto Ok Ecco di là Ti farà ammazzare No no Il 410 ci disperà Come non si sa cosa Attento Sì Prova a piarlo Ma così Mezzo impiccato Prova a prenderlo Io ti copro dagli altri Tanto il Dora non c'è più Gli altri sono distanti Ok Cosa? Da quando in qua È così resistente? Tengo a dare una mano Ottimo Ho finito Oddio Che schifo Non ho anche il piamme Sì Bello Bello Non ha senso Ho sprendato tutte le ispano Su quello lì Non gli hanno fatto nulla Bello Cioè Ha resistito Ti ha pure Ma dato il piamme Sì Oddio Mi sono spento Prova ad andare in base Ok Ho un'ala nera E un'ala nip Però Per il resto Niente Io non so come ha fatto Quello là Packet loss È tutto a posto La mia mira È più o meno decente Più o meno L'hai visto? Te l'ho regalata La chi Cos'è successo? Spiega No perché io non gli ho fatto mal Con critico Come si è messo a colpi? 200 colpi Cannone? Sì sì Ma perché mi tracontano Ma io li uso per vedere dove sparare Ho iniziato l'attacco adesso La cosa bella di War Thunder Dalla sinistra che è nera È integra Dalla destra che è rosa È tutta sfracellata Sì 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 Non ha senso Beh quella è la grafica comunque Sì vabbè però Questa qui non c'ha manco un forellino In realtà è nera Devo dire È sempre così eh? Questa è disfatta C'ha tre buchi Che saranno almeno 10 centimetri Bastanza equilibrata la partita eh A parte quello che ti ha fatto il coso Il 410 E c'è il satanico Poi con un colpo me l'ha fatta nera La cosa peggiore è che ti ha mandato in fiamme Mi sono spento Eh vabbè ma mi sono spento Non si sa come Ho avuto culo tanto Esatto Eh 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 Grande view fighter Ok Io sto laggando terribilmente a questo momento Non so perché Spero di non crashare di nuovo Dai riprenditi Connessione riprenditi Ci deve essere qualche problema di connessione oggi a casa mia Ok Mamma mia No ma dopo dal video devi vedere quanto sto laggando Devi proprio vederlo Se fai su e giù Cazzo senza far niente Guarda non decennera Non decennera Flap Ce li hai Li puoi usare Flap E se li apro li spacco Avvero Gli flappa è inglese Aspetta forse E rompiti Adesso posso Adesso posso Ok Distrutto La kill te la sei fatta Visto Non mi capaci da ancora Può Beh come E hai scaricato tutto il caricatore addosso E io l'ho finito Non è che Appunto Sì ma non avevo fatto ma Fitto E vabbè Infatti Qua c'è rimasto Due 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 però sono altissimi E i nostri alleati Esatto Quanto sono Crashati da soli Vabbè Allora il Fockewolf Questo qua più basso dovrei prenderlo Dovrei Perché se non lo faccio Split S Ok Oddio Cioè Solo al decollo Stava rompendo il carrello Oh Ok Perfetto Mi ha seguito in virata Ed era la cosa peggiore che poteva fare Con tutti i nemici dietro Che aveva Penso Oh Attenzione Che è successo? Eh è morto Chi? Ah sì È stato un frontale Ah vabbè Ma allora Impiccandosi per giunta Prendendo energia Io l'ho fatto pure Però l'ho fatto per finta Cioè L'ho fatto un finto frontale Quello invece ha insistito Quello l'ho fatto pure Quando avevo una lanera E non riuscivo a manovrare Quando bruciavo Allora se tu Riesci a venire adesso Lo chiudino un bel panino Sta dirigendo verso La nostra base Più Più Alla tua Sinistra Però si sta impiccando adesso Vediamo Siamo verso Quella verso nord Sì Ah vabbè Eh Ah Istinalo Di che vuoi fare l'assist Di che vuoi fare l'assist In fiamme? No Succede al mio aereo Che non riusci più a manovrare Ok Base Lo critica Ritorno alla base Ve lo lascio Mi sta dicendo No Non laggarmi adesso Che gli sono in coda Non ti preoccupare Ci sono sempre io Ho capito però Ah Ritorno alla base E ingaggia di nuovo Ok Colpo Cioè se io Non laggassi così Sarei il giocatore Più forte del mondo Praticamente Non va giù Dai dai Faccio finta Di dargli il frontale E poi ci muoio No Sono troppo veloce Non posso manco Schivare il frontale Tranquillo che l'ho disturbato No Il problema è che Stiamo andando a 630 Ok Buono Stiamo andando a 630 No? Quindi non potevo manco Permettermi Virate Non è stata granché Come partita Soprattutto per causa Dei miei Tremendi Lag Però è bello Si fai però Si si è bello Ah però Però mi viene voglia Di ucciderlo Un pochino Dai uccidilo appena finisce No Non si fa Camonelli E il Ambo Ok Uno E che poi Quello lì col Seppro lo stesso Che ha detto Me ne vado Poi è tornato ad ingaggiare Meglio meglio Perché se mi lascia uno Da solo Voglio dire Un trofeo di battaglia Cosa ci propinerà Mamma Gaijin Attenzione 150.000 No 15.000 Ucchio ho vinto Ah trofeo di battaglia Anche per me Vediamo 10.000 Leone No Mi sa che te lo dà Perché è la squadra migliore Allora te lo dà Portugese O Ges O come si pronuncia Air Force Rounder Ok Vabbè Ok questa volta Abbiamo finito Un saluto Dalla diciassettesima Posso dirlo Vero Tanto Danny Ti uccide Dalla diciassette